Purtroppo non è stata una bellissima partita, però ci sta, sono stati bravi anche loro perché ci hanno pressato benissimo, però purtroppo ci sta, in casa non si può vincere sempre, quindi bisogna guardare avanti ed essere ottimisti. In una brutta partita l'unica nota positiva è stata la punizione calciata da Memushai, sempre più uomo assist del Pescara con il gol di Scogna Miglio. Avete provato in allenamento questo schema? No, no, Gennaro è molto bravo, è più merito suo che merito mio, quindi basta che lo cerchi lui di testa, penso sia uno dei più forti della categoria, se non i più forti. Gol simile a quello di Cittadella, ma al di là di questo, nel secondo tempo quando Pilon ha messo dentro Bellini, quindi un attaccante di grossa struttura, allargato Crecco, classico 4-4-2, le cose sono migliorate, soprattutto per l'impatto di Bellini? Sì, qualcosa è migliorato, poi Santiago è bravo nel gioco aereo e a stoppare la palla a farci salire, però penso sia mancata secondo me un po' più di lucidità, un po' più di tranquillità per giocare la palla e fargli male. Edian, ti stai specializzando a calciare sempre più di sinistro, ormai ci stai prendendo un po' gusto? No, 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 quello già prima lo facevo, quindi... Ora lo fai un po' di più però? Sì, ma ora sì, ho preso un po' più consapevolezza, quindi non è un problema, però dispiace perché oggi non è stata una bellissima partita. Ti chiedo due considerazioni, Edian, approfittando della tua sincerità, la prima, per vedere il Pescara protagonista nelle zone che contano della classifica, serve un altro Pescara rispetto a quello visto questa sera? Sei d'accordo? Cominciamo con questa, sì o no? Sì, sì, sicuramente, serve un altro Pescara da quello visto oggi e da quello visto nell'ultima partita e lo sappiamo, lo sappiamo, sappiamo che c'è da lavorare e c'è da migliorare tanto. Perché questa squadra, Edian, in queste ultime due partite ha giocato così male? Male a Cittadella, direi quasi peggio questa sera col Cosenza, considerando che l'avversario era sicuramente di caratura inferiore rispetto ai Veneti? La Cittadella è stata una partita, secondo me, dove loro sono stati molto bravi e penso che sia anche uno dei campi più difficili dove tutte le grandi, secondo me, ci sta che perdono là. Invece questa è stata una partita, secondo me, un po' più brutta perché abbiamo creato pochissimo, abbiamo creato pochissimo rispetto almeno... Zero ti rimporta? Eh sì, purtroppo sì, forse è questo quello che dovrebbe farci più rabbia.